Ciao, mi chiamo Gabri Costa. Ascoltatemi cari ragazzi, voi che siete i miei amici followers e che siete sempre iscritti e che mi seguite in tanti, vi faccio vedere altri fumetti in questo gioco Tartarughe Ninja del Kawabanga Collection, visto che siamo nel covo delle tartarughe. Se siete pronti per vedere altri fumetti, facciamolo subito. Questa volta vi farò vedere i fumetti di Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time. Sono solo quattro. Ora si passa a Universe. Anche qui sono tanti. Non devo perdere il filo. Mi devo concentrare quando recensisco. Beh, procediamo senza perdere altro tempo. Passiamo subito agli altri fumetti. Ce ne sono davvero tanti. Ci sono tutti ragazzi. Per questo sto andando abbastanza veloce. Per farveli vedere, senza perdere tempo a spiegarvi. Ora passiamo a Urban Legends. Mi sa che questi saranno gli ultimi fumetti che vi farò vedere in questo video. Le recensioni che faccio sono tutte molto belle. Sono troppo belle queste recensioni. Tutti questi bellissimi video. belli sono questi fumetti. Bene. Abbiamo parlato fin troppo. È il momento di salutarci. Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Vi ho fatto vedere tutti i fumetti. Facendo i video dovete essere molto felici e contenti. Ora iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Ciao a tutti. Ciao a tutti.